Vediamo un metodo pratico per la pulizia dell'aura. L'aura è il campo energetico che circonda il nostro campo fisico, praticamente un'estensione sottile del nostro corpo fisico, potremmo definirlo sottile energetico. Nell'aura ci sono tutte le emozioni, le emozioni però compresse. L'aura cosa significa che si sporca? Significa che è piena di emozioni veleno, la rabbia, il rancore, l'attaccamento, la gelosia, l'invidia. Ma uno dice ad esempio, ma io in questo momento non provo rabbia, certo io in questo momento non provo rabbia, ma datemi un oggetto di rabbia e vedremo se questa rabbia viene fuori o non viene fuori. Se la rabbia non ci fosse, non verrebbe fuori. Quindi se la rabbia viene fuori vuol dire che c'è, anche se non manifesta in questo preciso momento. E c'è perché è intrisa, diciamo, nel corpo astrale o nell'aura. Lo stesso discorso vale per l'attaccamento. Io in questo momento potrei non avere nessun attaccamento, ma datemi un oggetto di desiderio e vedremo se questo attaccamento viene fuori o no. L'attaccamento non manifesto si trova in questo corpo energetico. Queste emozioni veleno, come l'attaccamento, la rabbia, l'invidia, la gelosia, sporcano l'aura, nel senso che la rendono, diciamo, opaca, non la rendono bella, perché è carica di emozioni veleno, di emozioni negative. Pulirla significa abbassare il livello di queste emozioni. Sarà difficile eliminarle del tutto, perché dovremmo diventare dei Buddha, però possiamo incamminarci su questa strada. Eliminarle del tutto vorrebbe dire non provare rabbia per nessuna ragione al mondo, non provare attaccamento per nessun oggetto di desiderio, essere quindi dei Buddha. Però possiamo, anche se non arriviamo a questi livelli, ridurre queste emozioni veleno. Come possiamo fare? Possiamo farlo semplicemente con un metodo indiretto, cioè immaginare, attraverso il potere dell'immaginazione, la nostra aura bella e intrisa soltanto dei colori fondamentali, delle emozioni positive. Questi colori fondamentali sono i colori dei cinque chakra principali. Il colore bianco collegato al chakra del capo, il colore rosso collegato al chakra della gola, il colore blu collegato al chakra del cuore, il colore giallo collegato al chakra dell'ombelico e il colore verde collegato al chakra dell'osso sacro o chakra segreto. Quindi dobbiamo semplicemente metterci in una posizione comoda e rilassata, con la schiena retta ma non tesa, posizione confortevole, braccia e gambe non incrociate. Chiudere gli occhi o tenerli semi chiusi con lo sguardo diretto verso il basso? Iniziare a concentrarci sul respiro, portare la nostra tensione mentale sul respiro e quindi, mentre porti la tua tensione mentale sul respiro e ascolti il suono della mia voce, tutto questo ti rilassa sempre di più, abbandona completamente il tuo corpo ed entra in uno stato di rilassamento profondo, sempre più profondo. Via via che continui ad ascoltare il suono della mia voce, il tuo respiro diventa sempre più calmo e rilassato, come calmo e rilassato è il respiro del mare, come calmo e rilassato è il respiro dell'universo. E via via che tutto questo succede, il tuo corpo e la tua mente si rilassano sempre di più, il tuo corpo diventa sempre più pesante e la tua mente sempre più leggera. E adesso che hai raggiunto questo livello di rilassamento, ti chiedo di immaginare, lontano da te, ad una distanza di un metro circa, un campo energetico di colore bianco, ovale, che ti circonda completamente, che ti circonda completamente. Immagina un'energia bianca pura, limpida, trasparente, intatta, completa, che come un uovo ti circonda completamente. E adesso all'interno di questo involucro bianco immagina un altro strato di un'energia di colore rosso, un rosso forte, trasparente, potente, che si avvicina sempre di più al tuo corpo e in perfetta armonia con il campo di energia bianco e ti circonda completamente. E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce ti chiedo di immaginare all'interno del campo energetico di colore rosso, un campo energetico di colore blu, un blu intenso, trasparente, potente, potente, che ti circonda completamente, sempre di forma ovale, bello, limpido, trasparente, di colore blu. E all'interno di questo campo energetico di colore blu visualizza un campo energetico di colore giallo, un giallo molto intenso, potente, trasparente, sempre più vicino al tuo corpo fisico, sempre più vicino al tuo corpo fisico, perfetto, ovale, e ti circonda completamente. E adesso immagina all'interno di questo campo energetico giallo un campo energetico di colore verde, che arriva fino alla superficie del tuo corpo fisico, ed è di un colore verde, intenso, trasparente, che ti circonda completamente. E questi cinque colori sono in armonia tra loro, uno interno all'altro. Immaginali ora tutti assieme con l'occhio della tua mente. Questi campi energetici pulsano e ti proteggono, sono intatti, armoniosi e puliti, e ti circondano completamente. Verbe il più interno, poi il giallo, poi il blu, poi il rosso e poi il bianco. Il bianco il più esterno, il verde il più interno. Verde all'interno, giallo un po' più esterno, blu ancora un po' più esterno, rosso, ancora un po' più esterno, bianco più esterno di tutti. Immaginali brillare in modo armonioso tra di loro. Concentrati su questa immagine tutto il tempo necessario, in modo che la tua aura, il tuo campo energetico, il tuo corpo sottile sia puro e privo dei veleni mentali, privo assolutamente dei colori dei veleni mentali. Concentrati soltanto su questi cinque colori, bianco più esterno e poi il colore rosso, blu, giallo e verde. E adesso che hai fatto tutto questo, ritorna a portare la tua attenzione sul respiro, inspira ed espira tranquillamente. E adesso fai un profondo respiro, trattieni l'aria alcuni secondi e poi buttalo fuori fino in fondo con la bocca. Quando hai fatto questo profondo respiro, inizia a muovere il tuo corpo, a sgranchirti le gambe, le braccia e per ultimo apri gli occhi, sentendo il potere energetico della tua aura pulita e purificata. Bene, questo esercizio serve proprio per ristabilire un armonioso campo energetico attorno al nostro corpo fisico, una pulizia dell'aura. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo e ti invito a seguirmi sul blog www.soluzionivip.com Ciao!